Il Comune di Argenta sta provando proprio in questi giorni il nuovo RUE, diciamo il nuovo piano regolatore, che prevede tutte le soluzioni per il risparmio energetico nelle nuove costruzioni o nelle strutturazioni. Noi come Cooperativa Primavera lo stiamo già facendo da tempo e abbiamo già progettato un palazzo ecosostenibile, quindi ecologico realmente e lo stiamo già realizzando. Le nuove case devono consumare poco. Cosa vuol dire consumare poco? Che dobbiamo già idearle, dobbiamo già costruire con certi criteri. I criteri sono prima di tutto proteggerle dal freddo e dal caldo. Il tetto in legno ha caratteristiche per suo conto di essere ovviamente naturale e di avere un grande isolamento termico. In secondo luogo gli mettiamo alla casa un cappotto, si chiama realmente cappotto, che non è altro che un isolamento esterno di tutte le pareti, atto proprio a difenderla sia dal freddo d'inverno che al caldo d'estate. In secondo luogo dobbiamo riscaldarle con delle caldaie di ultima generazione, caldaie a condensazione, con anche l'ausilio dei pannelli radianti a pavimento, che sappiamo che hanno un minore consumo di acqua calda e aiutandoli con dei pannelli solari termici. Cosa vuol dire? Sono pannelli che praticamente ci aiutano attraverso il sole, che è gratis, l'energia solare, ci aiutano a scaldare l'acqua sia per l'uso sanitario sia per l'uso di scaldamento proprio. Terzo luogo dobbiamo sfruttarle, anche sfruttarle dal punto di vista energetico, vuol dire ad esempio sfruttare sempre l'energia solare per creare energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici. Quindi dobbiamo sì sfruttare la nostra abitazione per creare energia alternativa, energia pulita. In ultimo luogo dobbiamo anche ad esempio irrigarle, irrigare i nostri giardini, i nostri parchi con l'acqua di recupero, l'acqua piovana. Dobbiamo cercare proprio di recuperarla proprio per irrigare, nei periodi estivi ovviamente, i nostri giardini con acqua piovana di recupero, che non costa niente. Le nostre abitazioni sono state anche calcolate dal punto di vista dell'isolamento acustico. In questa abitazione siamo già partiti, con dei tecnici appunto appropriati, a isolarla acusticamente. Tutte le tubazioni all'interno sono state isolate acusticamente. Non solo, anche le pareti a contatto fra i nostri appartamenti e i vanni comuni o fra appartamento a appartamento. È stato studiato un certo tipo di muratura con isolamento interno. Questo sicuramente è l'indirizzo per il futuro. Poi sappiamo bene che la tecnologia al giorno d'oggi corre. Noi costruttori dobbiamo essere sensibili nel capire che cose bisogna fare per migliorare. Già abbiamo dato tantissimo, già queste case di nuove generazioni sono veramente molto all'avanguardia rispetto a quelle tradizionali. Però questo non vuol dire che ci dobbiamo fermare. Noi dobbiamo sempre fare nuova ricerca, partendo anche da chi come noi amministra queste società di costruzione. Cioè dobbiamo noi stessi capire dove andare verso il futuro che deve essere sicuramente più ecosostenibile.